Si chiamava Gianni Medda, era il 1998 e c'era una bella signora accanto a lui che si chiamava Elena e si chiama Eppola, a cui farei un applauso perché Elena è una gentildonna che mi ha sempre voluto bene e questa canzone che sto per cantarvi, pensate che lui non era deciso, non era convinto che questa canzone fosse giusta come sigla televisiva del suo bel programma che si chiama Sardegna Canta, vediamo se ve la ricordate, poi lo diventò fortunatamente, ve la dedico e grazie di essere qui a tutti alla festa di San Pietro. Sardegna Canta 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 Grazie Sardegna Canta